La saga di Harry Potter si ferma a sette, ma i fan del maghetto non soffriranno di astinenza. A loro disposizione ora c'è Pottermore, un sito interattivo che la scrittrice J.K. Rowling ha definito un'inedita esperienza di lettura online, con i lettori a dare nuova forma alle storie e a partecipare in diretta all'universo di Hogwarts. È gratuito, non c'è bisogno di pagare per accedere a tutto quello che avete visto oggi e non si paga neppure il materiale extra. Non si deve spendere nulla per andare a Pottermore. Sul portale si potrà comprare per la prima volta anche la versione digitale della famosa serie e fin da luglio un milione di privilegiati parteciperà al Work in Progress. Il lancio di Pottermore precede di poche settimane l'uscita dell'ultimo film, I doni della morte, parte seconda. Il lancio di Pottermore precede di poche settimane l'ultimo film.